Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. Parliamo subito del ricorso presentato dal WWF al Tar del Lazio. Un ricorso presentato per chiedere l'annullamento del decreto ministeriale numero 172. Secondo i legali dell'Associazione Ambientalista, nel testo del decreto sarebbero presenti incongruenze di carattere amministrativo. Prosegue dunque la battaglia contro Ombrina Mare. Il WWF ricorre al Tar del Lazio per bloccare ancora una volta il progetto Ombrina Mare. In questo caso la richiesta degli ambientalisti è quella dell'annullamento, previa sospensione, del decreto ministeriale 172, quello dello scorso 7 agosto. Secondo i legali che hanno avanzato la richiesta al Tar, infatti, sarebbero state rilevate non poche incongruenze nella procedura amministrativa. Questo è un ulteriore tassello che viene messo insieme in quella che è una battaglia forse fondamentale per l'Abruzzo per bloccare quest'opera che è assolutamente demenziale dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico. Tant'è vero che contro Ombrina c'è tutto l'Abruzzo che si sta schierando e questo secondo noi è l'altro aspetto importante, l'aspetto politico di cui il governo dovrebbe tenere conto. Non si possono fare delle scelte come queste contro la volontà della regione, di tutti gli operatori economici, delle associazioni, degli enti locali e soprattutto dei cittadini abruzzesi. Il WWF dichiara di portare avanti una battaglia costruendo tutti i tasselli necessari a bloccare Ombrina Mare, coinvolgendo un gran numero di esperti indispensabili per affrontare una questione che si rivela molto complessa. Il ricorso è stato fatto estremamente bene dall'Avvocato Francesco Paolo Febbo e le ragioni sono quelle che portiamo avanti da tempo. Ci sono delle irregolarità in questo procedimento, secondo noi abbastanza palesi, confidiamo che i giudici abbiano la nostra stessa opinione e annullino il decreto ministeriale. Noi siamo certo che siamo convinti di farci, altrimenti non avremmo fatto il ricorso, siamo convinti perché sappiamo di essere dalla parte della ragione sul piano giuridico, ma soprattutto sappiamo di essere dalla parte della ragione sul piano politico, perché è assurdo che si voglia imporre a un territorio un insediamento che questo territorio non vuole perché ha fatto scelte diverse per il proprio futuro e per la propria economia. Un fiume in piena alla ringa difensiva dell'Avvocato Cagliazza, legale dell'ex governatore della regione Abruzzo Ottaviano del Turco, nell'ambito del processo d'appello sulla Sanitopoli abruzzese. Non c'è traccia di soldi, ha incalzato l'Avvocato Romano. La sentenza di primo grado sulla Sanitopoli non ha tenuta logica, è un campionario stupefacente di insensatezze. Il Tribunale è guidato da una convinzione preventiva, quella di trovarsi di fronte a fatti corruttivi gravissimi e di doverla punire. Così l'Avvocato Gian Domenico Cagliazza, uno dei legali che assistono l'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano del Turco, nel corso della sua durissima ringa difensiva al processo di secondo grado presso la Corte d'Appello dell'Aquila sull'inchiesta che nel 2008 decimò la giunta regionale con l'arresto del governatore, poi condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione. In aula, gli avvocati difensori degli imputati più eccellenti, Ottaviano del Turco, Lamberto IV, Camillo Cesarone e Sabatino Aracuo. Abbiamo fatto, ha aggiunto Cagliazza, un processo in cui un signore prende 6,2 milioni di euro in contanti e di questa somma non c'è segno né di un euro né della traccia di un euro. Spesso i soldi frutto di corruzione non si trovano, il borsone di contanti non si trova quasi mai, ma i soldi lasciano sempre una traccia. Del Turco è stato ministro della Repubblica e sindacalista della CGL ma la sua vita è continuata in una sobrietà leggendaria, encefalogramma piatto. Nel corso della ringa l'avvocato Cagliazza, parlando di accertamenti fiscali eseguiti dalla Guardia di Finanza, ha ricordato anche l'acquisto di tre immobili da parte di Del Turco, ma per pagarli, ha detto sempre legale, ha smobilizzato una polizza di 15 anni prima e messo in vendita tre quadri dell'amatissimo Mario Schifano, suo amico personale e poiché questo è inconciliabile con l'accusa di tangenti, la sentenza bellamente non ne parla. Nelle quattro ore di arringa l'avvocato Cagliazza ha parlato di un'aggiunta che doveva essere fatta fuori perché operava con danno gravissimo alle operazioni illegittime di alcune cliniche private. Abbiamo vite distrutte, una reputazione politica, quella di Ottaviano del Turco, distrutta dopo decenni di vita pubblica. Su di lui si è battuto un ciclone, paga i veri poteri forti di questo paese. Poi l'invitabile accenno sui viaggi eseguiti dal grande accusatore Vincenzo Angelini, ex patron del gruppo Villapini, le cui dichiarazioni hanno portato alla decapitazione dell'aggiunta regionale del Turco con l'arresto del governatore. Intanto Angelini, per il crack di Villapini di Chieti, è stato condannato a dieci anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. Visita ispettiva presso la tua del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che denuncia foto alla mano lo stato di abbandono e di l'assenza di sicurezza all'interno della struttura ex-GTM, oltre ad una serie di malfunzionamenti che creerebbero perdite fisse nelle casse della nuova società di trasporti unica regionale. A pochi giorni dalla firma per i contratti dei lavoratori della tua, la società unificata di trasporti, giunta dopo tantissime polemiche e contrasti, arriva una denuncia del Movimento 5 Stelle. A farla è il consigliere regionale Domenico Pettinari, che mostra con tanto di foto la situazione all'interno della sede dell'ex-GTM di Pescara, oltre a tutta una serie di malfunzionamenti all'interno dei mezzi. È il risultato di una visita ispettiva fatta pochi giorni prima dal grillino. Ho trovato una criticità, le emettitrici di biglietti a bordo, l'80% non funzionano, quindi l'utente che sale sul mezzo a quel punto è autorizzato ad evadere, ad impagare, non funzionano perché molte volte si inceppano, perché sono piene. Abbiamo trovato, nonostante un'officina molto all'avanguardia all'interno dell'azienda, con un reparto gomme, con un gommista, un appalto che ci costa tanti soldi l'anno e non si spiega perché non può essere svolto tranquillamente dal gommista interno e dal reparto interno. C'è il sistema AVM, che sarebbero le segnalazioni luminose sulle paline, le segnalazioni alle fermate dell'autobus, che sono state acquistate. Ogni mezzo è dotato di un satellitare, di una sim, per comunicare dove si trova in quel preciso istante il mezzo e a che ora arriva nella fermata. Ebbene, anche queste, l'80% non funzionano. Abbiamo trovato un carattrezzi interno all'officina, che serve per trasportare i mezzi, un carattrezzi che ci dicono internamente che da un anno è fermo solo perché non hanno fatto il passaggio di proprietà. Servirebbe fare questo. Cosa comporta? Che anche lì c'è stato un appalto, si ricorre a una ditta esterna che fa da carattrezzi e ogni trasporto ci costerà all'azienda circa 750 euro. Tutto questo e tanti altri problemi, il deposito di penne fa acqua da tutte le parti, è una situazione, mi hanno fatto vedere delle foto allucinante, veramente allucinante. Tutto questo, mentre si sbagliera che è stata creata la nuova società, la tua, e nessuno mai è andato a vedere quali sono i veri problemi. Questi sono i veri problemi, dobbiamo mettere mano a questi problemi. Un vertice politico per richiedere lo stato di calamità, è quello che si è tenuto ieri presso il municipio di Avezzano. La regione si è attivata dopo l'ondata di maltempo che ha colpito giorni fa la Marsica. Martedì prossimo l'Aquila ospiterà un incontro per sincronizzare le azioni della regione con quelle dei territori colpite dal maltempo nella Marsica il 15 ottobre scorso. Un vertice tra i sindaci della Marsica con il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pancrazio, e il sottosegretario alla presidenza della Giunta, Mario Mazzocca, si è svolto appunto al comune di Avezzano per definire le procedure finalizzate alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza in seguito all'alluvione. Il sottosegretario Mazzocca ha rivolto un invito ai sindaci presenti, c'erano quelli di Avezzano, Civitella Roveto, Balzorano, Canistro, San Vincenzo, Capistrello, Luco, San Benedetto de Marsi, Carsoli, Moreno e Magliano. Ai sindaci viene chiesto di dettagliare quanto più possibile i danni causati dal maltempo alle infrastrutture e alle culture del territorio, al fine di supportare in maniera ottimale la richiesta che la regione ha avanzato per la dichiarazione dello stato di emergenza alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla riunione tecnica hanno partecipato anche i rappresentanti del Consorzio di Bonifica, la Coldiretti, la Confagricoltura e ogni ingegnere della protezione civile. Il Presidente del Consiglio regionale inoltre ha dichiarato che la regione si è attivata per recepire finanziamenti per la pulizia delle strade e dei canali del Fucino, fino ad oggi di incerta competenza. Il collettore centrale ha sostenuto uno dei rappresentanti del Consorzio e le strutture canalizzate sono state danneggiate e per questo non è necessario solo un intervento di manutenzione ordinaria, ma straordinaria. Rapina all'ufficio postale di Campli, in provincia di Teramo, alla chiusura. Due uomini con casco integrale, guanti e occhiali da sole, dopo aver immobilizzato il direttore dell'ufficio, legandola ad una sedia, hanno portato via dalla cassaforte circa 80 mila euro che sarebbero serviti per pagare nei prossimi giorni le pensioni. I due banditi sono poi fuggiti a piedi, facendo perdere le loro tracce. I carabinieri della Compagnia di Albadriati e del Comando Provinciale di Teramo stanno indagando. I due malvimenti sono ricercati per rapina aggravata e sequestro di persona. La Regione Abruzzo ha aperto una consultazione online per ascoltare le esigenze degli imprenditori in relazione ai 200 milioni di euro di fondi PORFESR assegnati all'Abruzzo dall'Europa. La sollecitazione rivolta ai territori da parte dell'Unione Europea affinché partecipino e condividano le scelte per l'assegnazione dei fondi PORFESR quasi 200 milioni di euro per l'Abruzzo nel periodo 2014-2020 è arrivata da responsabile dei PORFESR della Commissione Europea Luigi Nigri intervenuto ieri all'Aurum di Pescara nel convegno organizzato dalla Regione Abruzzo e proprio l'ente ieri ha annunciato di aver aperto una consultazione online sul proprio sito internet che durerà 8 settimane al fine di capire le esigenze delle imprese e degli imprenditori soprattutto quelli più giovani ed impegnati nel campo dell'innovazione un pensiero, quello rivolto alle imprese espresso anche dal Vice Presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli intanto noi facciamo una cosa che altre Regioni hanno fatto molto prima di noi e che l'Abruzzo avrebbe dovuto fare prima cioè integriamo il FESR con l'FSE cioè i fondi dedicati al sostegno alle imprese con i fondi dedicati al sostegno al lavoro e alla formazione è chiaro che a questo punto abbiamo un ventaglio di strumenti più ampio che ci permette nei confronti delle crisi industriali soprattutto di quelle crisi industriali per le quali c'è una possibilità di ripresa di ripartenza o magari c'è qualcuno che vuole venire a subentrare come per esempio è successo recentemente con l'Aburgo di Avezzano ecco, in questi casi questi strumenti possono rivelarsi molto utili E a Teramo fanno discutere le modalità adottate dell'amministrazione comunale per sollecitare il pagamento della mensa ai genitori inadempienti dopo il cartello affisso dal Comune all'ingresso delle scuole le maestre diventano a tutti gli effetti agenti di recupero crediti Pioggia di polemiche a Teramo per le modalità adottate dall'amministrazione comunale di richiesta di pagamento della mensa ai genitori inadempienti dopo il cartello affisso dal Comune all'ingresso delle scuole in cui si avvisano le famiglie che se non provvederanno al saldo immediato delle rette i minori non saranno ammessi a fruire del pasto le maestre diventano a tutti gli effetti agenti di recupero crediti sì perché nei giorni scorsi alcuni genitori sono stati contattati telefonicamente dalle maestre perché provvedessero a mettersi in regola con il pagamento della mensa un metodo irregolare visto che gli insegnanti dovrebbero anche per la tutela della privacy essere soggetti del tutto estranei ai rapporti contrattuali ed economici che intercorrono fra i fruitori del servizio e il Comune il primo piano lo guadagna il contestatissimo cartello affisso nelle scuole e mense comunali definito di tenore inaccettabile un atto di bullismo del Comune sui bambini un metodo di avviso antisociale su cui interviene il capogruppo di Fratelli d'Italia Raimondo Micheli i bambini non hanno colpe tutt'al più l'amministrazione dopo aver erogato il pasto potrebbe rivalersi nei confronti dei genitori attuando tutti gli strumenti possibili legali e giuridici e quindi intervenendo successivamente ma il pasto ai bambini va assolutamente garantito e io non credo che 10 pasti in più o 10 pasti in meno possano creare le motivazioni di un sissesto economico di un'amministrazione rimandare indietro un bambino o affiggere un cartello da domani non si paga, non si fornisce il pasto a chi non è in regola lo trovo sgradevole, inopportuno in un momento importante e difficile come questo sicuramente di cattivo gusto e contro i toni perentori che il comune ha assunto verso le famiglie morose scende sul piede di guerra anche la consigliera 3.0 Maria Cristina Marroni la quale accusa il comune per i metodi adottati e si dice pronta a denunciare e chiedere l'intervento dei carabinieri a tutela dei bambini per i soprusi messi in atto dall'amministrazione comunale è ripartita questa mattina la fregata maestrale che ha sostato per quattro giorni nel porto di Ortona ospitando i ragazzi delle scuole è un importante convegno organizzato dalla regione Abruzzo sulla macro regione Adriatico Ionica vediamo la fregata maestrale è ripartita oggi dal porto di Ortona dopo una sosta durata quattro giorni la prima della campagna navale attraverso l'Italia che si concluderà alla Spezia il 7 dicembre quando ci sarà la messa a riposo della nave dopo 30 anni di vita operativa nave maestrale è stata consegnata alla Marina Militare nel 1982 con le altre navi gemelle della classe 20 ed ha rappresentato un vanto della Marina in tutti gli anni di vita operativa mercoledì 28 ottobre a bordo di nave maestrale si è svolto il convegno dedicato alla macro regione Adriatico Ionica presenti i presidenti di regione Abruzzo e di regione Marche e l'ambasciatore della Croazia poi gli istituti scolastici locali hanno potuto seguire il 29 e 30 ottobre delle conferenze sulla grande guerra con particolare riferimento ad Ortona e alla Marina in Adriatico non ci sono state solo le conferenze perché la popolazione ha potuto visitare la nave dal pomeriggio del 27 ottobre fino al 30 e nell'hangar è stata allestita una mostra fotografica proprio sulla prima guerra mondiale e su una delle tante attività operative moderne di nave maestrale dopo il saluto ad Ortona ci dirigeremo di nuovo verso nord toccheremo Trieste, Venezia poi torneremo nel centro quindi Ancona e proseguiremo poi nella zona ionica toccheremo Catania, Napoli Gaeta, Civitavecchia, Livorno e poi torneremo nella sede di Spezia un viaggio che ha, come ho accennato prima lo scopo di salutare la popolazione senza tristezza semplicemente un grazie a chi ci ha supportato da casa durante questi lunghi anni di servizio e soprattutto mostrare al popolo italiano la qualità dei marinai e delle sue unità tornare a far sorridere le donne ammalate di tumore questa è la missione dell'Associazione Pescaresi I Colori della Vita che dona parrucche alle donne che stanno combattendo contro il cancro Siamo con Giovina Zulli presidente dell'Associazione I Colori della Vita per parlare di questo progetto un progetto importante che avete presentato anche a Milano in occasione di una conferenza all'Expo di cosa si tratta? Allora, la conferenza mondiale delle donne è stata appunto in occasione dell'Expo è stato portato qui dagli stati generali della regione Abruzzo con la presidente Gemma Andreini e lì in quell'occasione appunto abbiamo presentato il nostro progetto Il Sorriso nel Cuore rivolto alle pazienti oncologiche che ormai da cinque anni qui nella nostra sede dell'Associazione I Colori della Vita stiamo portando avanti il progetto prevede appunto noi come associazione proprio doniamo la parrucca alle pazienti oncologiche in occasione appunto dell'Expo abbiamo invece chiesto al Ministro di inserire la parrucca nell'elenco delle protesi quindi far diventare la parrucca un ausilio per le donne in pura oncologica per chi volesse avvicinarsi alla vostra associazione vogliamo dare qualche riferimento noi siamo a Pescaracolli siamo proprio a fianco alla chiesa della Madonna di Sette Dolori l'associazione si chiama I Colori della Vita appunto in via Largo Madonna 62 Pescaracolli avete anche un sito, una pagina Facebook? abbiamo una pagina Facebook i colori della vita pescara quindi mettete tanti mi piace perché così potete vedere tutte le nostre attività e tutto quello che vi proponiamo ma soprattutto in questa pagina potrete vedere anche quanti sorrisi doniamo perché magari ci sono tante persone che stanno vivendo questo momento difficile di malattia a volte si sottovaluta il discorso della parrucca si può pensare, si pensa che è una cosa futile invece soprattutto per la donna diventa la malattia nella malattia stessa quindi aiutare le donne a superare questo momento è una cosa molto molto importante lo spettacolo comico di Enrico Brignano ha aperto ufficialmente la stagione del Teatro Stabile d'Abruzzo siamo stati anche gli inventori degli assegni caprioletti l'attore comico Enrico Brignano arriva all'Aquila a Piazza del Teatro culla del Teatro Stabile d'Abruzzo che alzerà il sipario della nuova stagione proprio con il suo spettacolo l'attore romano non ha voluto rinunciare alla passeggiata in centro storico per vedere soprattutto in che condizioni è il suo teatro comunale suo perché per la rinascita dello stabile Brignano allestì uno spettacolo di solidarietà subito dopo il sisma devolvendo 100.000 euro proprio al TSA che con quella cipra sovravisse e poter ripartire uno spettacolo di solidarietà anche quello di ieri sera a favore del progetto Teatro Giovani in scena all'auditorium della Guardia di Finanza stracolmo di persone Io sono venuto qui all'Aquila insomma in tempi proprio di grande tragedia si stavano contando ancora i dispersi e rivenire adesso e vedere insomma che ancora a quest'ora lavorano gli operai Brignano fa tante domande sul progetto di ristrutturazione del TSA e si intrattiene a lungo con il sindaco dell'Aquila e l'architetto della soprintendenza Marcello Marchetti, direttore dei lavori caustico con il primo cittadino Brignano, battuta alla mano chiede a Cialente la data delle sue dimissioni Le dimissioni quando le diamo? E poi non le diamo? Somma, fracate amarelo! E poi c'è stato Raffaello che prima di diventare famoso per gli album da disegno che aveva aperto vicino al negozio del Giotto di Gennarelli e lui faceva i cioccolatini Il popolarissimo attore ricorda le sue origini abruzzesi aggiunge è un paese in emergenza mentre noi siamo qui a Messina sono senza acqua altre zone sono devastate dall'alluvione non credo che la politica possa ricostruire le case ma il buonsenso so che Renzi qui non l'avete fatto entrare e questo è un buon segno aggiunge con il sarcasmo che lo contraddistingue Non dipende dal colore politico anzi molto spesso il colore politico osteggia so soltanto che Renzi qui non l'avete fatto entrare e quindi credo che sia un buon segno insomma Al via la ventunesima edizione di Scena d'autunno rassegno organizzata a termo dall'associazione culturale Spazio 3 con la direzione artistica del regista Silvio Araclio il cartellone si apre come già un anno fa il 2 novembre giorno di commemorazione dei defunti Teatro, musica, rarità cinematografiche l'omaggio a Dante Alighieri e alla Alice di Lewis Carroll e altro ancora per la ventunesima edizione di Scena d'autunno il cartellone si apre come già un anno fa il 2 novembre giorno di commemorazione dei defunti nel cimitero di Cartecchio Davanti alle tombe monumentali la tomba Gavini la tomba Rolli e la tomba dei Pasini verranno dette delle letture particolari tratte da Spoon River da Omero Odissea da Pascoli e anche da Michelangelo Bonarroti il programma di Scena d'autunno proseguirà il 20 novembre con l'elegante proposta musicale Blu è un concerto di musiche blues soul e altro e avremo Magda White che è un'artista polacca che vive a Teramo e non solo accanto ad Arturo Valiante che tutti conosciamo come un pianoforte straordinario e poi il mondo di Giovanni Antonio al contrabbasso e Dario Giammertino alla batteria il 24 novembre nella sala fondi antichi della biblioteca delfico appuntamento con una vincente avventura dell'arte e il suo coraggioso protagonista è un libro che ripercore la vita di questo italiano straordinario che da spia da ministro per il recupero dei beni culturali per 40 anni dopo la guerra ha ritrovato più di centinaia di opere che i tedeschi avevano trafugato all'estero riportando i più importanti capolavori che naturalmente non erano più in Italia con un'attenzione con una caparbietà che solo un agente segreto qual era e un intellettuale amante del nostro paese dei nostri beni poteva fare al sommo è dedicato il 3 dicembre un doppio appuntamento dalla divina commedia alla proiezione di una rarità cinematografica l'inferno la sezione cinema è cura di Leonardo Persia quindi sarà anche un modo per i cinefili di vedere un film irreperibile in qualche modo per ricordare così in maniera visionaria i 750 anni dell'ascita di Dante serata conclusiva di scena d'autunno cartoline di Natale il calendario si chiuderà infatti il 16 dicembre con Christmas in Worldland attraverso cartoni cartoline particolari filmati d'epoca muti e parlati per un omaggio a quella che è stata un po' la fantastica storia di Alice che anche il Disney ha ripreso e che tutti quanti amiamo ed è per bambini e per adulti il parco dei Riseis di Pescara sarà dotato di un nuovo defibrillatore l'iniziativa messa in campo dalle società sportive Caldora e Renato Curi Angolana Roberto La Selva responsabile dei settori giovanili dell'Angolana Renato Curi e della Caldora oggi siamo al parco dei Rises per parlare di questa iniziativa come società donate un defibrillatore all'Aurora Sapori che gestisce il parco dei Rises come è nata questa iniziativa? è nata dalla volontà delle nostre presidentesse di Chiara Bancoschi della Caldora con Nicola Corvacchiola presidentessa della Renato Curi Angolana che hanno voluto fare questa donazione all'associazione Aurora che gestisce il parco dei Rises un'associazione impegnata anche con i ragazzi diversamente abili un'associazione che ci ha dato anche la possibilità di entrare nel parco per scuola calcio e per proporci per le nostre attività insomma quindi abbiamo voluto ricambiare in qualche modo questa loro attenzione nei nostri confronti con questo gesto che secondo me è molto importante noi siamo forse due tra le poche società in Abruzzo che hanno nel proprio impianto sportivo già un defibrillatore in dotazione i nostri tecnici i nostri dirigenti annualmente fanno corsi BLSD per l'utilizzo di questi defibrillatori è una volontà precisa delle nostre presidentesse quindi non possiamo esimerci da questo compito e abbiamo quindi voluto conoscendo il valore di questo diciamo oggetto abbiamo voluto donarne uno anche all'associazione sperando di fare cosa gradita Caldora Pescara Angolana Renato Curi sono due società che da sempre puntano sui giovani e sui ragazzi sì sono società che hanno una lunga tradizione quindi ricordiamo che insomma hanno anche vinto campionati italiani speriamo di poter continuare su questa scia e se possibile anche di migliorarla perché no noi ci proviamo insomma l'impegno da volontà c'è ed ora la pagina sportiva parliamo di Serie B con i risultati e la classifica dell'undicesima giornata una giornata in chiaroscuro per i colori abruzzesi grande prestazione vittoria del Pescara prestazione discreta ma sconfitta per la Virtus Lanciano Ascoli Provercelli 0 a 1 Barinovara 1 a 1 Brescia Latina 1 a 0 Cagliari Vicenza sarà il posticipo di lunedì sera Cesena Virtus Lanciano 2 a 0 Como Modena 1 a 1 Livorno Trapani 2 a 0 Pescara Crotone 4 a 1 Sarnitana Perugia 1 a 1 Spezia Virtus Centella il posticipo di domani sera ore 17 e 30 Ternano Avellino 0 a 3 classifica in testa c'è una nuova squadra il Cesena con 23 punti Crotone 21 Cagliari e Livorno 20 Bari 19 Pescara 18 Brescia 17 Spezia 16 Vicenza 14 Novara Avellino Latina e Trapani 13 punti Entella Perugia e Modena 12 punti Salernitana e Provercelli 11 Lanciano Ascoli E Ternana 10 punti Chiude il Como con 7 punti Nel servizio di Paolo Renzetti ripercorriamo la grande vittoria del Pescara per 4 a 1 nel pomeriggio all'Adriatico Cornacchia e poi le interviste di Enrico Rocchi ai due tecnici Massimo Oddo e Ivan Iuric Un Pescara Sontuoso fa a fette l'ormai ex capolista Crotone vincendo per 4 a 1 con pieno merito una gara che non è mai stata in discussione con il Delfino a menare le danze dal primo all'ultimo minuto grande protagonista in Casa Bianca Azzurro è stato ancora una volta Gianluca Lapadula autore di una doppietta e più in generale superlativa così come tutti i suoi compagni male la squadra di Iuric che prima di oggi aveva perso solo con il Cagliari si comincia con i Calabresi in avanti al sesto minuto c'è un cross dell'ex Modesto a centro area per Ante Budimir che si gira ma conclude in maniera imprecisa e pasticciata permettendo a Fiorillo di controllare senza problemi la risposta dei Bianca Azzurri arriva al quattordicesimo con un colpo di testa di Lapadula che impegna in una parata non difficile Cordaz i ragazzi di Massimo Oddo ci credono e al sedicesimo arriva così il vantaggio dalla sinistra Gianluca Caprari crossa in area dove Yao in maniera scomposta e con le braccia larghe tocca la sfera Pinzani di Empoli dopo un attimo di esitazione indica il dischetto dagli 11 metri si incarica della trasformazione Memushai che spiazza Cordaz portando in vantaggio il Delfino l'1 a 0 costringe Calabresi a spostare in avanti il baricentro del gioco pericoloso l'attaccante romeno dei Calabresi al 32esimo quando costringe al salvataggio in angolo l'estremo Bianca Azzurro il Pescara al 34esimo ha l'occasione per fare ancora male agli ospiti Caprari in area tutto solo dalle parti di Cordaz non riesce a concludere a dovere sprecando malamente passano due minuti e Fiorillo deve ancora fare gli straordinari sul colpo di testa di Belasa su angolo calciato da Stoian ma il Pescara è letale e al 40esimo trova il raddoppio con Gianluca Lapadula che servito in corridoio da Memushai non perdona mettendo alle spalle del portiere del Crotone e andando a festeggiare sotto la curva nord la sua quinta rete stagionale le immagini evidenziano la posizione di fuorigioco dell'ex Terramano l'ultima emozione arriva al 45esimo quando Budimir anche lui in offside scarica su Fiorillo che si immola salvando porta e risultato nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 in campo del primo tempo e con gli ospiti in avanti ma con il Pescara che va a mettere a segno il Tris ancora con lo scatenato Lapadula che non perdona Cordaz in uscita esplode la gioia dei tifosi pescaresi con i ragazzi di Massimo Oddo che al quinto con Caprari mancano anche il poker con la conclusione al lato dell'ex romanista che poi si riscatterà il Crotone rischia ancora all'ottavo quando Lapadula ancora lui chiama al miracolo il portiere calabrese ma è un Pescara show visto che al 14esimo Zampano mette il turbo sulla sua fascia di competenza e crossa centroarea per Caprari che si riscatta segnando il gol del 4 a 0 in campo non c'è partita il Crotone al 22esimo trova invece la rete del 4 a 1 con l'incornata vincente del suo capitano Dos Santos poi solo festa sugli spalti per i 9 mila dell'Adriatico ma testa già rivolta al recupero di martedì prossimo a Novara hanno giocato martedì a distanza di qualche giorno hanno cambiato qualcosa però loro sono una squadra che comunque comunque sia chi gioca ha dei dei movimenti prestabiliti hanno fatto siamo stati bravi a contenerli a volte ci hanno messo anche in difficoltà in alcune circostanze però fino ai 30 metri poi siamo stati bravissimi con la difesa che oggi ha fatto creare una partita eccezionale loro sono una squadra pericolosissima nelle ripartenze quindi se teniamo conto il fatto che i momenti più difficili di qualsiasi partita e complicati non sono quelli di quando tu non hai la palla perché tu sei schierato e quindi fai le tue uscite come le hai preparate il problema è quando tu hai la palla e la perdi loro sono bravissimi in questo e noi siamo stati ancora più bravi ci abbiamo lavorato tanto in settimana non solo per questa partita ma in generale a stare sempre compatti a stare sempre andare avanti sugli appoggi sugli uomini liberi per cercare di non farli ripartire oggi l'abbiamo fatto benissimo e sono contento rimango molto contento della prestazione dei miei perché penso che siamo riusciti a non far giocare bene Pescara che abbiamo dominato a lunghi tratti con possesso palla sicuramente è stata decisa da episodi loro hanno veramente anche questo ragazzo che oggi vendendola da vivo mi ha impressionato la padula che ha movimenti di un attaccante favoloso al di là secondo me delle categorie dove gioca anche lui c'è grande merito suo che sono riusciti a vincere la partita è fortuna che il Pescara non ha giocato allora altrimenti come finiva? è vero penso che loro altre partite io le ho viste tutte perché mi piaceva come gioca perché mi diverte vederli giocare hanno stradominato dove hanno creato tante palle gol come Adascoli come Provercelli Cagliari dove hanno veramente stradominato le partite oggi sono arrivate molto di meno vicino all'area di rigore però sono stati molto cinici e anche quella è qualità prestazione discreta orgogliosa della Virtus Lanciano invece al Manuzzi di Cesena ma nulla da fare per gli uomini di Roberto D'Aversa che avevano davanti una impresa improba cioè fermare un Cesena fino ad oggi perfetto in casa e che continua a restare immacolato nel percorso al Manuzzi sei partite sei vittorie oggi due a zero sulla Virtus con le reti di Perico e Chessi una bella prova d'orgoglio non è bastata la Virtus Lanciano per uscire indenne dal Manuzzi il Cesena mantiene immacolato il suo ruolino casalingo sei vittorie su sei e si regala il primato in classifica vanificando una delle migliori prestazioni esterne stagionali dell'undici di Roberto D'Aversa che se non altro ha avuto dai suoi le risposte che voleva la Virtus se l'è giocata senza essere vittima sacrificale tutt'altro Aquilanti e Mamarella ritrovano il loro posto da titolare al pari di Zeduardo e di Francesco parte dalla panchina l'ex Marilungo tra i padroni di casa Drago recupera Perico e conferma il 4-2-3-1 con Cone e Ragusa preferiti a Garitano e Cascione l'avvio Cesena terrabbioso al secondo minuto grossa opportunità subito per Ciano a fil di palo al sesto Djuric si gira al limite e conclude debolmente aridità blocca col passare dei minuti la Virtus lenisce la sfugliata dei padroni di casa e si dimostra tutt'altro che rinunciataria sugli sviluppi di un corner Aquilanti va col destro Ferrari per poco non arriva a correggere in un buon momento la Virtus però incassa il gol dello svantaggio al 27esimo Renzetti attivissimo a sinistra mette dentro un gran pallone sul quale si avventa Perico che anticipa di netto Mammarella e incorna l'incrocio dei pali nulla da fare per aridità e il secondo gol in campionato per il difensore poco dopo ci prova intuffo il gigante Djuric ma non inquadra la porta la Virtus però risponde prima con un destro di Fabrizio Paghera quindi al 45esimo con un velenoso corner di Mammarella che sorprende Gomis Capelli salva sulla linea di porta ripresa e Cesena intento a chiudere subito i giochi punizione di Ciano corretta dalla barriera Cone anticipa aridità ma trova solo l'esterno della rete la Virtus resta sul pezzo e spaventa i romagnoli al nono Mammarella va via sulla sinistra e centra Ferrari anticipa tutti e sorbola Di Uninez all'incrocio dei pali dopo tre minuti lanciano ancora pericolosissimo dalle parti di Gomis Di Cecco arriva in spaccata sul traversone di Piccolo ma Perico sbroglia la versa osa dentro Marilungo e Lanini per Di Francesco e Di Cecco ma la mossa non sortisce effetti anzi il Cesena prima sfiora il raddoppio con il diagonale di Ciano sbanacciato da aridità poi lo trova alla mezz'ora ma Marella sbaglia il rinvio e smarca involontariamente Cassi che prende la mira e batte aridità palo rete e primo gol in campionato per il giovane gioiellino ivoriano classe 96 una rete che fa scendere i titoli di coda al match Cesena primo Virtus che scivola nel gruppo di squadre al penultimo posto la prestazione è stata buona ma a Perugia serviranno i punti per non complicare oltremodo la situazione e ora la Lega Pro parliamo di Termo 23 convocati dal tecnico Vivarini dopo la seduta di rifinitura di questa mattina tornano a disposizione Amadio dopo la squalifica e Cecchini che ha superato il fastidio alla Caviglia Amadio dovrebbe tornare titolare per il resto poche le novità previste dopo la vittoria in settimana nel recupero di Sant'Arcangelo la presentazione della gara nelle parole del tecnico Biancorosso Vivarini ha delle grandi individualità la gararesa è una squadra ben fatta e ben diciamo assemblata e poi è una squadra che tatticamente sta molto bene in campo si difende molto bene e poi ha delle qualità a livello di possesso palla soprattutto a centro campo con Berardocco con Dettori sono molto molto bravi nel gestire la palla anche davanti con Infantino con Giasi è una squadra da affrontare con un piglio importante però anche noi siamo una buona squadra siamo una squadra che comunque noi come mentalità siamo sempre proiettati all'attacco di conseguenza se non impariamo a curare con molta attenzione le prevenzioni che dobbiamo fare quando perdiamo palla è chiaro che prendiamo troppe ripartenze ed è stato diciamo quello che ci fa dire che non abbiamo equilibrio a me non piace improvvisare le cose cambiamo modulo giochiamo così giochiamo con là un giorno così un giorno con là e non sappiamo poi come muoversi in campo non sappiamo che spazio attaccare non sappiamo come ci dobbiamo difendere solo perché cambia il modulo cambia delle posizioni ma deve avere dei meccanismi diciamo che il giocatore deve sapere che cosa fare in campo ci stiamo mettendo un po' più tempo nella quadratura di questa squadra e poi altro problema che ci sta creando è l'aspetto anche atletico perché abbiamo fatto 11 partite in un mese quindi anche lì abbiamo dovuto lavorare poco potuto lavorare poco sull'aspetto atletico speriamo di non pagarne dopo il prezzo e l'Aquila invece domani in campo alle ore 14 contro il Sant'Arcangelo out il centroavanti De Sousa seconda sfida casalinga consecutiva per l'Aquila che domani pomeriggio al Fattori riceve il Sant'Arcangelo di Lamberto Zauli gli ospiti sono reduci dal K.O. infrasettimanale contro il Teramo e hanno una gran voglia di riscatto i rossoblu di Perrone invece sognano il bis in casa dopo la sofferta ma fondamentale vittoria dello scorso turno di campionato contro la Carrarese vincere significherebbe mettere altri punti preziosi in cascina allontanare i bassifondi della classifica e presentarsi tra sette giorni a Pisa con l'animo di chi se la va a giocare senza nulla da perdere l'allenatore Aquilano però dovrà fare a meno ancora una volta del terzino sinistro Simone Piva out per uno stiramento muscolare di secondo grado mentre resta in dubbio l'impiego in avanti di Claudio De Sousa che ha trascorso tutta la settimana con l'influenza nel caso del forfè della Pantera toccherà Perna dal primo minuto per il resto si va verso la conferma del 4-4-1-1 con Triarico dietro la prima punta e con Ceccarelli e San Domenico esterni di centrocampo appuntamento al fattori alle ore 14 di centrocampo chiudiamo con la schermata della serie D le partite di domani ore 14.30 decimo turno Avezzano-Vispesaro Castelfidardo-Campobasso Chieti-Materica Fermana-Monticelli Jesina-Isernia Agnonese-Amiternina Recanatese-Folgore-Veregra San Nicolò-Fano che è il big match di giornata e poi la capolista San Benedettese che riceve il fanalino di coda Giuliano Roma nel più classico dei testa-coda l'appuntamento è per domani alle 14 o poco prima anticipiamo diretta a stadio perché l'Aquila sarà in campo proprio a quell'ora e poi vi ricordo anche l'appuntamento di domani sera ore 19.30 con l'Abruzzo del Pallone condotto da Jacopo Forcella per questa terza edizione del TG6 è tutto io vi auguro una buona notte e soprattutto una buona domenica a a a a a a